Dell'undicesima edizione di Graziano VizComics lo assegniamo a Numero 18, Yu Morizawa Yu Morizawa Ebbè eccola Prossimo concorrente dal mondo dell'incantevole crimi Lei è Victoria e ci porta Yu Morizawa Ebbè eccola Ebbè eccola Prossimo concorrente dal mondo dell'incantevole crimini Ebbè eccola Ebbè eccola Ebbè eccola Prossimo concorrente dal mondo dell'incantevole crimini Sì Sì Signorina complimenti Mi complimento con lei Giuria qualche domanda? I complimenti arrivano anche da noi Perfetto Sei stata bravissima Ha fatto tutto lei A posto Possiamo andare a casa tutti Anche ai Florio Un applauso Prossimo concorrente Non perdiamo tempo Prossimo concorrente Lo presenti tu? No, non lo so E ci siamo Undicesima edizione Grazanovis Comics Dell'undicesima edizione di Grazanovis Comics Lo assegniamo a Numero 18 Yu Morisawa Yu Morisawa Ed eccola Vieni qui Guarda quel signore Voluto là Bravissima Complimenti ancora Sei stata veramente Veramente brava Mettiti insieme agli altri ragazzi Grazie a tutti Grazie a tutti